Non so se si può fare, però ho intenzione di provarci. L'idea è di presentare una via di mezzo fra uno spettacolo e un corso. Io siederò davanti o starò in piedi davanti a 100-140 persone e insieme a loro scriverò un romano. In buona sostanza questa cosa si farà partendo con una distribuzione di schede del personaggio a tutto quanto il pubblico. Chiunque lavorerà la potrà avere. La scheda del personaggio è una scheda che io uso, che usano molti sceneggiatori o scrittori per definire i particolari del personaggio. La scheda verrà riempita dal pubblico in sala e poi le schede verranno raccolte e 10 di quelle schede verranno assorteggiate. Io continuerò a spiegare come si struttura una scaletta e altri particolari di come si organizza il lavoro da professionista per la scrittura di un romanzo di genere. Giallo o noir, fantascienza o fantasy. Ripeto, non so se si può fare, nessuno ci ha mai provato, però perlomeno in Italia che io sappio, non seriamente. Però io ho intenzione di provarci. Scriverò la scaletta insieme al pubblico. Insieme al pubblico decideremo alcuni particolari. Chi verrà ammazzato, chi sarà l'assassino, su quale pianeta deve andare l'astronave, o qual è il mistico anello che deve essere ritrovato dalla compagnia dell'anello. Uno dei mille altri particolari che ci sono nei romanzi di genere. E perché ci sono e come. Il tutto durerà circa due ore. Nell'arco di queste due ore, ripeto, scriverò insieme a di fronte al pubblico, dopo aver creato con il pubblico la scaletta e altri elementi strutturati del romanzo, scriverò il primo capitolo, un capitolo intermedio e l'ultimo capitolo. Non sarà un romanzo completo, ma l'idea di completa, di come nasce il romanzo, questo sì. Il 29 e il 30 novembre, con la collaborazione di Sabina Marchesi, all'interno di quello bellissimo spazio teatrale, che è il Teatro Sala 1, che è su piazza di San Giovanni, di lato alla Basilica, di lato alla Scala Santa. Può essere che sia una sciocchezza imbarazzante di quelle da dimenticare appena vista, oppure può essere che sia divertimento puro. Io tendo a credere che sia la seconda cosa e per divertimento intendo divertimento per me e per il pubblico. Ripeto, una cosa del genere che io sappia nessuno l'ha mai fatta, io voglio provare a farla. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.